Poi ti puoi saper consegnare questa skin gratis per tutti i giocatori Ma se anche tu la puoi ricevere devi seguire questi passaggi Primo passaggio devi lasciare un bel like Ti do 5 secondi Quindi 5, 4, 3, 2, 1 E vai lasciare un bel like In questa maniera si puoi ricevere anche tu questa skin gratis Bello raga questa volta non sto scherzando Questa skin vorrebbe essere gratuita Sicuramente l'avete già visto Fa parte del set di Mida Revenge Possiamo leggere qui a destra Beh sicuramente avrete fatto già questa missione che vi darà questa skin E beh dopo aver fatto una cosa consegnando quell'oggetto Alla fine vi toglieva questa skin Raga e se vi dico che Fortnite a breve potrebbe regalare questa skin Beh sicuramente andiamo ad arrivare a 50 like Lascerò un codice di skin qui sotto nei commenti Mi raccomando lasciami il td qui sotto nei commenti Poi riceverò un regalo e codice creatore coding gamer 582 Quindi c'è ragazzi Bye